Sono molto contento di aver ricevuto questo premio. No, a Frosinone si sta bene, c'è tutto per far bene. Sabato abbiamo pareggiato con Lecce, che secondo me è una delle candidate per andare su. Sicuramente daremo del filo da torcere un po' a tutti quanti. Siamo una buona squadra. È un campionato DB, a mio giudizio, molto tecnicamente più valido degli ultimi anni, con molte squadre competitive. Non volevo sminuire i campionati precedenti. Più squadre competitive. Sì, sì, sicuramente è bello. Ci sono tantissime squadre preparate, forti. È un campionato secondo me spettacolare quest'anno, anche perché ci sono veramente 5-6 squadre che possono allungare.